Buongiorno a tutti amiche e amici di Rossini TV Siamo alla nostra terza puntata del nuovo ciclo di trasmissioni Che dedichiamo ai personaggi, ai personaggi sportivi di Pesaro ma non solo Oggi abbiamo un personaggio che veramente ci fa venire i brividi Come vedete alla mia sinistra abbiamo Walter Magnifico Con davanti un pallone da calcio perché tu sei un grandissimo campione di calcio, vero Walter? Sì, è vero quando ero da bambino No, non so che cosa sarebbe potuto succedere se mi fossi dedicato al calcio Chi lo sa? Non mi posso lamentare di come sono andato le cose Di come sono andato le cose Adesso nella vista abbiamo un centravanti che è quasi due metri Quindi chissà cosa poteva succedere È già intervenuto Paolo che si è dalla sinistra di Walter Magnifico E alla mia destra c'è Marco Buonasera a tutti, ben ritrovati Walter, noi davvero siamo molto contenti di averti qui A prescindere da qualunque retorica Da qualunque discorso Te l'abbiamo già detto prima Non avevamo mai avuto tanti attestati di stima, di simpatia Nei confronti di un nostro ospite come è successo questa volta Quindi questo ti fa capire l'affetto che c'è nei tuoi confronti Mi ringrazio, intanto vi ringrazio dell'invito E ringrazio tutti coloro che hanno espresso questo apprezzamento Naturalmente l'affetto che mi lega a Pesaro è ormai di lunga data Ed è sempre più forte, quindi è sempre più sentito Ed è anche reciproco nella città nei tuoi confronti Allora tu mi hai corretto perché hai sbirciato nei miei punti E hai visto che io avevo segnato Walter Magnifico di San Severo Ma in realtà ragazzi Walter Magnifico non è di San Severo Walter Magnifico è di una metropoli che si chiama Che si chiama Foggia Che si chiama Foggia Ma sono solo nato a Foggia Poi dopo ho sempre vissuto a San Severo Quindi diciamo sia la mia infanzia Che poi insomma l'inizio anche della mia carriera cestistica È stata San Severo A proposito dell'inizio della tua carriera cestistica Ci tenevo subito a farti vedere questa immagine Questa persona che è una persona che a te è molto cara Perché? Questa persona si chiama Cosimo Morfeo Ed è stato bidello della scuola media Palmieri Nella quale un giorno si presenta in prima media Un ragazzo alto 1,72 m E quindi a occhio dice Forse questo potrebbe giocare a prima canestro Infatti io ogni volta che parlo di Cosimo mi commuovo Perché è stata una persona fantastica E naturalmente lui è stato sia dal punto di vista tecnico Per avermi avviato al basket Sia dal punto di vista umano Una persona fantastica Lui era il bidello della palestra della scuola media Palmieri Che io andavo a frequentare Ogni inizio di anno Lui entrava nelle classi In maniera perentoria Ma i professori lo conoscevano Faceva alzare tutto in piedi Invitava i ragazzini a frequentare il corso di mini basket Per chi voleva Mi ricordo che quando vide me Tu vieni oggi pomeriggio alle 4 e mezza Io non sapevo nemmeno di cosa si trattasse Diciamo che è un po' il gigliotti Primavera, edera della situazione Esatto Quello che ho notato in quella storia È che lui a 10 anni era già più alto di me Esatto 72 eravamo lì Però Paolo ti volevo portare a questo Perché vedi Walter Magnifico Era 1,72 in prima media Anche te più o meno 1,72 in prima media Solo che dopo c'è stata una differenza C'è stata una differenza di sviluppo Infatti anche io quando ho cominciato a giocare a basket Ho cominciato da 6 anni Siccome ero cresciuto Facevi il pivot Ero cresciuto tutto subito Il pivot l'ho mai fatto Ma eri cominciato quasi da 4 Poi man mano che passavano gli anni Sempre fino a playmaker Però per tanti anni l'hanno lasciato in porta A giocare a calcio A differenza di tu A lui l'ha lasciato in porta Per concludere diciamo questo Noi siamo andati Io e mio fratello Andavamo a scuola insieme Siamo andati a casa E mi hanno detto Va bene papà c'è il mini basket E mio padre è contento Va bene andate andate a provare Solo che siccome io ero talmente Allampanato Diciamo per non usare altri temi Che Sembrava che non fosse per me Scoordinato alto Un po' incantato Per cui con mio fratello Ho detto dai Diciamo che andiamo a giocare a basket E poi andiamo a giocare a calcio Nel cappetto con gli amici Naturalmente mi mettevano sempre in porta Perché ero altro Dopodiché mio padre lo venne a sapere Perché Cosimo Mi sono sorpreso Che non vederci Papà ci accompagnò Per un po' di tempo in palestra Poi dopo Cosimo fu bravissimo A farmi innamorare Del mini basket Ma cercavi di sgarrare Anche il mini basket Sì Non mi entusiasmava all'inizio Non è facile per un bambino È coordinarsi il palleggio Il terzo tempo C'era una tradizione cestistica A San Severo Sì a San Severo C'era già una tradizione cestistica Comunque sempre di serie C Però c'era Grazie a Cosimo C'era un movimento Un movimento a livello di bambini Enorme, grande Poi in quegli anni successivi Quando a 14 anni e mezzo Mi hanno buttato in campo In serie C In mezzo E trentenni A quel punto è rialto A 14 anni Era già su 2 metri E dopo Da lì diciamo Insieme ad altri miei amici Seguirono 5-6 anni Proprio di grande Entusiasmo E coinvolgimento Noi come San Severo Andiamo a fare anche la pool Per andare in serie A Nel 78-79 Nel 77-78 E quell'anno poi andò Fabriano Che vinse la finale con Brindisi E Fabriano andò in serie A Noi arriviamo quindi su 10 Quindi è stato La massima punta Toccata da San Severo Certo che in effetti Per fortuna Che poi al basket Ti sei dedicato Perché noi abbiamo visto Alcune cifre così Giusto per citarle Perché sono importanti Allora Walter Magnifico Quarto per presenze Di tutti i tempi In serie A 760 partite Settimo cannoniere Di tutti i tempi Più di 9.000 punti Nella sua carriera Secondo rimbalzista Di sempre 4.200 rimbalzi Sono cifre Che rendono l'idea Della statura sportiva Di Walter Magnifico Che è stato Un giocatore Forse unico Forse unico Unico A volte Ci sono delle fasi Nello sport Come stiamo Delle evoluzioni Nello sport Dove si evolvono Anche E modificano I ruoli O Nel mio caso Il ruolo Del numero 4 Che poi viene chiamato Numero 4 Era Il post alto Era Il secondo lungo L'appoggio al lungo Che faceva Il pendolo sotto canestro Negli anni 70 Ma comunque I lunghi Erano Più che altro Coinvolti nel gioco Vicino al canestro Io cominciai Grazie alle mie caratteristiche Fisiche Soprattutto Anche tecniche Ad allontanarmi Da canestro E a correre Molto In velocità Una volta Il contropiede Si faceva Con i tre piccoli E i lunghi Arrivavano Molto più lentamente Invece noi Cominciamo a correre Con 4 giocatori Con un lungo Quindi Diciamo Non solo io Poi c'era anche Pessina Che era molto bravo In questo Cominciarono a venire fuori Dei lunghi Molto più rapidi Che cominciarono ad aprire il gioco Anche A difesa schierata E quindi È stato un momento In cui Quel ruolo lì Si cominciò a cambiare Tu Walter La percepivi Perché io Tu la percepivi Di essere Un giocatore diverso Io l'impressione L'ho sempre avuta Il ricordo Di quegli anni Era che tu eri Un giocatore Moderno Di svolta Per quello che era Il basket Un antissignano Di quei tempi Che ne so Il giocatore In Europa Successivo Che a me ha dato idea Di una svolta Nel basket È stato Kukoc E a quel tempo lì Dicevo Cazzo Questo è un giocatore diverso Perché era alto Era mobile Tirava da fuori Sapeva andare C'era i movimenti Spallacani Era un giocatore Abbastanza totale Tu lo percepivi Già Lo percepio Quello era il mio modo Di giocare Se io vedevo Che correndo Ero più rapido Del mio diretto avversario Mi piaceva correre Quindi giocavo in velocità Ed ero parte Del contropiede Come Come Primo rimorchio E quindi La squadra diventava Più pericolosa Facevo quello Mi piaceva Cioè giocavo in velocità Dovevo Non avevo Una struttura fisica Che mi Potesse Diciamo Permettere di giocare Di forza E giocavo in agilità Per quello c'era Ario Sì Per quello c'era Ario Non pensavo Quello era il mio modo Di giocare Mi divertivo così Mi legavo al resto Della squadra In quella maniera Lì Poi sono stati bravi Gli allenatori A sfruttare A vedere Queste tue caratteristiche Ma non certo Io pensavo Che si stravolgeva Però tu ci stai Ci stai dando Un concetto importante Allora Un giocatore nuovo Un giovane Che si approccia A uno sport Che ha delle potenzialità È fondamentale Che segua gli insegnamenti È fondamentale Che segua gli insegnamenti E che percepisca Che quando L'allenatore Quando la persona Che riesce a vedere In lui Quella caratteristica Effettivamente poi Venga seguita dal giocatore Questo è fondamentale Però non è scontato È fondamentale Ma non è scontato Sì Non è scontato Hai ragione Ma soprattutto Diciamo In questi ultimi tempi Tanti ragazzi Magari fanno anche fatica Ad ascoltare A mantenere la concentrazione Ascoltare A mettere in pratica Un po' come se Sono già sicuri Capito Di quello che sanno fare Ed è sufficiente Quello che sanno fare Invece È la prima cosa Che Veramente Per quanto mi riguarda Una cosa Io ho sempre avuto Le orecchie aperte E gli occhi attenti A quello che I miei allenatori Per recepire Ciò che ti vengono Al punto tale Walter Che tu sei stato Il primo giocatore italiano A entrare Nell'interesse dell'NBA Parliamo degli anni 80 Tu avevi fatto Le olimpiadi di Los Angeles Uno dei primi Comunque uno dei primi Dai Però effettivamente Tu sei Hai fatto anche Hai provato Mi pare Con gli Atlanta Hoax Hai provato E quindi sei stato Proprio Hai varcato l'oceano Proprio In un mondo nuovo Che effetto ti fece Quel mondo nuovo Allora Fu un'esperienza Bellissima Insomma Non è Non è difficile Io mi ricordo Che a Pesaro Eravano tutti pauriti Oddio ci porta via Tutti impauriti Ci sono due Prima Prima Diciamo L'esperienza Sicuramente È stata bellissima Ma non è arrivata In un momento Diciamo Top Forse Top Soprattutto mio Di condizione Di forma Perché era già due mesi Che ci allenavamo Per andare Per i campionati mondiali Di Spagna Dopo i due mesi Di un mese e mezzo Di allenamento Più i 15 giorni Del campionato Le mie risorse Erano Laticavano Erano abbastanza Assorbite In riserva Per cui andare lì Poi e misurarsi Comunque parliamo Dell'86 86 esatto Dove ancora la differenza Era ben notevole Un po' di fatica L'ho fatta Cioè Non mi sono sentito Soddisfattissimo Per come potevo Giocare O esprimermi Avresti potuto fare di più Sì Se ero in condizione migliore Però L'esperienza È stata Eccezionale Poi dopo Invece Ci fu Tutto questo Clamore Che coinvolse Con mia sorpresa Anche I vertici Della federazione I vertici Della scavolini Le preoccupazioni Cioè Invece di Prendere Quella notizia O quella situazione In senso positivo Cioè Magnifico E Binelli Che vengono Visti Dall'NBA E quindi Un qualcosa Di positivo Venne visti Come l'NBA Che ruba i giocatori Il problema Dei giocatori La burocrazia Che all'epoca Perché FIBA E l'NBA All'epoca Andavano Malissimo Quindi se tu vai a giocare In America Torni Giocherai Potrai giocare Solo da straniero Tutte stranieri Insomma Io poi Mi sono tenuto Tutti i ritagli Dei giornali Ma Non ti convocano 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 Non ci fu una reazione Positiva Diciamo Attorno a questa Ci fu una reazione Anni 80 Comunque fuori Da quella Che era Torni Volevo fare una domanda A Walter A parte che Gas Binelli Ricordo che ha fatto Il car A Pesaro A Pesaro Perché c'era mio padre Che comandava Gas Binelli L'abbiamo intervistato L'anno scorso All'Elevator Esatto Oltre tutto La domanda Che volevo porre A Walter Era questa Tu sei arrivato A Pesaro Nell'80 La scavolina Era reduce Da un paio Di spareggi Salvezza Raggiunti All'ultimo secondo Contro La superga Mestre E Canon Venezia Peraltro due partite Nella storia Del basket Di Pesaro Perché vinte tutte e due Vinte tutte e due Un esodo biblico Secondo me Hai scelto Pesaro Perché Il tuo omonimo Che metteva La grana Ti ha convinto Di venire a Pesaro O perché Sapevi già Che Avresti avuto Un abbraccio Di 99 pullman Per tutta la tua carriera E 99 mila persone Tutti gli abitanti di Pesaro Se sapevo che mi facevi questa domanda Ti portavo il telegramma Che ho mandato a Pesaro Rifiutandola Io ho rifiutato Io ero a destinazione Pesaro Io ero a Bologna Sì Alla fortità Dopo i primi mesi Quei ero di difficoltà Perché il primo anno Che ero fuori casa Poi dopo mi sono ambientato Agli amici Di qua di là Se non che Arriva a giugno E mi arriva La telefonata Di Vito Amato Sai Vieni a Pesaro Ti abbiamo preso a Pesaro Di qua di là Parlando a casa Un po' così Ma io voglio Vorrei rimanere a Bologna Poi dopo A Pesaro L'anno prima C'era stato un po' Quel problema Di Joe Pace Insomma Non è che c'era Non era proprio lineare E allora Siccome ero scritto All'università A Bologna Mando un telegramma Alla federazione Alla Scavolini Rifiutando il trasferimento Per motivi di studio Uno dei primi no Esatto E io Ho letto invece In un'intervista Che poi fu Scansi A convincerti E fu Il fatto che tu Leggesti in una rivista Di Roosevelt Superbasket Gigante Sporti illustrati Sporti illustrati Roosevelt Bui che l'aveva appena Preso peso Mi piacerebbe giocare con questo Scansi fu decisivo Io avevo perso papà Due anni prima E quindi mamma Ancora noi Eravamo ragazzini Per ieri Diffici Si per ieri Diffici Si verificava questa situazione Dire mio figlio Che va lontano Da casa Insomma La responsabilità Di mia madre Però lì Fu bravissimo Però a Spiegare Tutta la situazione Il cambiamento Che da lì Poi avvenne Il progetto Perché c'era un grande progetto Un progetto Che è venuto a San Severo L'hai ospitato Da tua mano Beh in quel periodo A San Severo Sono arrivati Tutti Allenatori Dirigenti Da Roma Da Valencia Da Milano E niente Quindi fu Convincente E poi Quando mi dissi Che avrebbero preso Roosevelt Buic Io avevo visto Più di una volta Su internet No C'era un amico mio Che aveva uno zio in America Ogni tanto gli mandava Paccate di Di ritagli Una volta Una cosa Di ritagli Di sport Illustrated Ho visto Roosevelt Con i capelli afro Sto ragazzo Mi incuriosiva E quindi Alla fine Poi insomma Decisi E di Wilbur Holland Avevi avuto Notizia O non lo conoscevi per niente? No Non lo conoscevo Perché ancora L'NBA Non è come adesso Che ci sono tutto di tutti Ecco Infatti Volevo venire All'attualità Un attimo Walter Perché? Perché noi Abbiamo assistito I giorni scorsi Alla vittoria Del mondiale Di Di Cina Da parte della Spagna Del Di Mr. Scariolo Che peraltro è stato Anche lui A Pesaro E tu prima hai fatto Hai detto Che una volta C'era più gap Fra Europa E NBA Mentre anche Paolo Invece In una recente Trasmissione televisiva Ha sottolineato Il fatto che Questo gap Comunque sia molto ridotto Sì È vero Sì È vero Nettamente Il primo gap Che c'era Secondo me Era Fisico Era fisico Ancora L'NBA Era vista Come un gioco Più atletico Più dinamico Perché dal punto di vista tecnico Anche all'epoca Anche negli anni 80 Tecnicamente I giocatori A livello europeo Con buona tecnica C'erano Il problema è che c'erano Meno squadre Anche nell'NBA Quindi una concentrazione Migliore Di giocatori Di livello più alto E fisicamente Erano ancora Un passo avanti Invece In questi ultimi anni A livello Eurolega A parte tutti i campionati Diciamo in generale Quelli europei Ma Eurolega NBA Secondo me Non ha nessuna Nessuna Chiaramente poi Se andiamo a prendere I carri O i James O proprio i top È chiaro che hanno Un passo in più Degli altri Ma abbiamo anche visto Adesso che La squadra americana Con le seconde E terze scelte Fa fatica Perché poi Nelle altre squadre Sono tutte piene Di giocatori NBA Che sono campioni Che sono giocatori Franchigia Più che fanno fatica Hanno fatto una figuraccia Sì Non hanno altro A riprova Di questo fatto Che ormai È diffuso La presenza Di un po' Di tutto il mondo Nella NBA L'Argentina Leggevamo Che è arrivata In finale Già in semifinale Era la prima squadra Credo dal 2000 Senza giocatori NBA Praticamente Ormai anche le Filippine Ha un giocatore NBA Praticamente Senti Walter Abbiamo sentito Che te comunque Di calcio segui Ci hai sottolineato Prima il pareggio Dell'Inter In Champions League Noi abbiamo messo Questa immagine Di Lukaku Il nuovo centravanti Dell'Inter Per un motivo preciso Tu sei stato Protagonista Qualche tempo fa Di una Insomma Di una Questione importante Hai tirato fuori Quello che è Un problema Sentito Reale Sociale Il problema Del razzismo Soprattutto in una società Che cambia E l'hai affrontato A testa alta E insomma Hai voluto denunciare Una situazione Che andava denunciata Beh certo Perché mi aspetto Sempre che lo sport Sia un veicolo Un veicolo Che è in grado Di migliorare E agevolare Queste situazioni Qui Quindi quando poi Mi trovo Di fronte All'esatto Contrario Io Sicuramente Non taccio Certo Metto in evidenza Ebbe un risalto nazionale Quella vicenda Ed effettivamente Tu hai avuto il coraggio Di affrontarla Ma anche questo Tornando a quello Che diceva prima Non è scontato Non è scontato Sì Non è scontato Probabilmente pochi In pochi Denunciano queste situazioni Qui Io ricordo benissimo Che in quel periodo lì Ogni tanto Andando a leggere Su internet Ogni tanto c'era Qualche episodio Di questo genere qua Il mio augurio È sempre quello Che le federazioni Il CONI Eccetera Migliorino sempre Queste Diciamo La situazione Dal punto di vista Burocratico Diciamo Di 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 approccio sociale Io dico Culturale Sì C'è bisogno Di tanto tempo Però se non si mettono In evidenza Anche diciamo In maniera brusca Come ho fatto io E non si fanno passi in avanti Verissimo E non a caso Vedi qui Ci piace citare La tua realtà Del magnifico Basketball Perché questa è una realtà Che è molto bella Questa è quella di Sansevero Sopra c'è Sansevero Che è mio fratello Che ha tutto il settore femminile Esatto Questa è quella di Sansevero Esatto E sotto ci siete voi Perché in realtà Il magnifico Il real magnifico Basketball È una realtà Molto importante Della nostra provincia Cioè Tanti bambini Tu mi pare che segui I bambini dai 5 ai 19 anni Vero? Giovani dai 5 ai 19 anni Sì Noi abbiamo Allora Intanto io l'ho chiamata real Perché avevo una Una passione Diciamo Un'ammirazione Per il Real Madrid Non per il Real Montecchio Non per il Real Montecchio No Real Madrid No no Per il Real Madrid Cioè Mi ricordo che ogni volta Andavamo a giocare A Real Madrid Alla centrale In questo palazzo Tutta la squadra Cioè Un'organizzazione Fantastica Comunque Era anche quella Della Scavolini Però ecco L'idea Del Real Come organizzazione Così E poi Perché Nel Real Madrid Giocava un ragazzo Con cui avevamo giocato Dalle Selezioni Nazionali Giovanili Fino a Nazionale A Eccetera Che è Fernando Martin Che morì Giovane Per un incidente stradale Quindi complice Diciamo Questi due Senti ma È possibile Vero Come si può fare Per Allora Un bambino Noi seguiamo anche i BIS Che sono un'altra realtà Sempre di basket giovanile Sono nostri amici Come ci si fa Ad avvicinare Allora Allora Noi abbiamo I settori Mini basket A Pesaro A Fano E a Montilabate E poi abbiamo Tutti i settori giovanili A Pesaro E anche a Fano Adesso con l'Under 13 Fino all'Under 20 Infatti ci sono delle giornate Che altrui Che abbiamo visto Abbiamo fatto le giornate Credo da Montilabate Adesso le stiamo facendo A Pesaro A Pesaro Siamo nelle palestre Alighieri All'apparenza di Santa Maria Dele Fabrecie Nel centro Smash La palestra di Montilabate E quindi Siamo divisi In diverse palestre In diverse situazioni Si può venire tranquillamente Dai bambini di 5 anni Provare 3-4 volte Praticamente In ogni pomeriggio Siamo impegnati Quindi Gran bella realtà Tanti bambini coinvolgono Ormai sono 10 anni Questo è il decimo anno Porta il tuo nome Così adesso Purtroppo È una garanzia È una garanzia Esatto Prima scherzando Dicevamo Probabilmente Certo che quel cognome Così bello È stato anche Un marchio di garanzia Sulla carriera di Walter Magnini A mio padre A mio nonno Certo se si fosse chiamato Walter Piccoli Ecco allora Noi esatto Volevamo però citare Il nostro amico Marco Piccoli Perché Marco Piccoli Che l'avresti mai detto Tu quando scendevi in campo E vedevi questi No L'inferno bianco Un giorno Di ritrovarti A vivere una realtà Come quella che in realtà È stata vissuta i giorni scorsi No Questa festa È il motivo Per cui ti abbiamo chiamato Anche perché C'è stata questa festa Ci piaceva averti con noi Ci piaceva parlare Di questa festa È stata una cosa straordinaria Sì è stato bellissimo È stata una festa Domenica Che ha coinvolto Tutti i tifosi dell'inferno E anche altri La squadra C'erano praticamente tutti Biaghini, Puglisi, Cosmelli Dirigenti Più tutti i giocatori Ma è stata anche una settimana Proprio piena Perché poi con Darren e Darwin Ci siamo visti anche Nelle serate Durante la settimana È bellissimo Perché Pensa Walter Che noi abbiamo inseguito Darren e Darwin Cook Per tutti questi giorni Poi con gli amici Eccetera Finalmente arriviamo A fargli le interviste Nella giornata di domenica Paolo riesce Che era lui Che ha seguito le interviste Intervista a Darwin Cook Intervista tutti Darren e Valerio Ibanchini Tutti Ma non mette l'audio Nel microfono E quindi E quindi Diciamo che c'è stato Meno che in quella Che di Darwin Diciamo che c'è stato Un problema audio È stato un problema Però è andato benissimo E in conclusione Visto che ci arriviamo Alla conclusione Una cosa bella Che ha detto Darren Nell'intervista Che non si è sentita Che non si è sentita Sulla parola di Cook È che effettivamente Quel gruppo lì Da compagni di squadra Sono diventati amici Per la vita Sono come i campioni del mondo Come quelle squadre Che vincono Che sono rimasti Comprendemente in contatto E citava tutti Chiamandoli per nome C'è proprio Questa è la mia seconda casa E loro sono i miei amici E per concludere Visto che ci arriviamo Alla conclusione Walter Ci piaceva ricordare Gianluca Del Monte Che non fece parte Di quella squadra Che vinse lo Scudetto Ma comunque storico Pesarese Che è il tuo compagno di squadra Compagno di squadra Di tanti altri Campioni Che purtroppo A causa dell'incidente Da qualche settimana Non è più fra noi E quindi credo Che sia doveroso Anche per noi Ricordarlo Era comunque Una persona Un pesarese vero E poi ci piace anche ricordare Perché prima di te Noi abbiamo avuto ospite A Rio Costa E sai A Rio Costa E Walter Magnifico Quasi l'abbiamo Costa Magnifico Costa Magnifico Costa Magnifico Costa Magnifico Era un po' come Pulis e Graziani Costa Magnifico E questo sodalizio Comunque Che anche questo È un sodalizio Che dura anche fuori dal campo Ma sicuro Con A Rio Veramente abbiamo fatto Tutta la nostra vita sportiva Vita cestistica Da quando eravamo Quindicenni Fino ad oggi Sempre insieme Accompagnata sia Nella Scavolini Che poi Nella Nazionale È chiaro Come ha detto lui Come ha sottolineato Darren Quando si creano Diciamo questi rapporti Che durano da anni E che poi Che giocando E nello sport Poi si cementano Ancora di più Perché ci sono emozioni Che si vivono insieme Esperienze Esperienze Sacrifici Fatti insieme È chiaro che poi L'amicizia Si consolida E poi dopo A noi fa particolarmente piacere Questo fatto Anche che questa amicizia Sia un pochino Il suggello Anche al rapporto Con la città Perché chiaramente Voi siete venuti Tu da Da Foggia Da San Severo Lui da un'altra parte D'Italia Da Nord Ma siete qui a Pesaro E tutt'oggi Per noi pesaresi Che hanno vissuto Anche quegli anni Girare per strada Incrociarti Incrociare Ario Non so È un qualcosa di molto bello E non siete gli unici Perché Pesaro In effetti Attira tante persone Tutte le volte Che i giocatori Tornano a Pesaro Come in questo caso Oppure abbiamo seguito Anche Mike Silvester Di cui non abbiamo parlato Perché non abbiamo avuto tempo Insomma Delle persone Dei giocatori Che sono veramente Nel cuore Nella storia di tutti noi Walter Noi ti ringraziamo Abbiamo i tempi stretti Noi saremmo stati qui Un'altra ora Come hai capito Però non possiamo permettercelo Perché i tempi televisivi Sono questi Di argomenti ne avevamo Ne avevamo tanti Guarda Tu avrai intravisto qualcosa Ne abbiamo parlato veramente Sarà per una puntata Walter 2 Walter 2 esatto E ti ringraziamo tantissimo Walter È stata una puntata bellissima Ma bellissima Non certo per noi Per te Quindi questo sia chiaro I senza giacca Vi ringraziano Rossini TV È stata davvero orgogliosa Di ospitare Walter Magnifico Ci vediamo venerdì prossimo Una buona settimana a tutti Non mi dimenticate I like sulla pagina Dei senza giacca Sulla pagina di Rossini TV Credo anche sulla pagina Di Walter Magnifico È del Real Magnifico Una realtà da seguire Perché quando si fa sport Indirizzandolo ai giovanissimi Con i valori di Walter Magnifico Sicuramente qualcosa di buono Ne esce Walter Mi siamo certi Aggiungo una cosa Aggiungo una cosa in finale Che un augurio Visto che la settimana prossima Inizia il campionato di basket Abbiamo qui Walter Alla Alla WL Carpegna Prosciutti Basket Pesaro Basket Pesaro WL Che inizia il campionato E che sia Un bel campionato Che faccia innamorare I pesaresi Di questa nuova squadra Giusto Paolo Grazie a tutti Grazie Grazie ancora a Walter Grazie Grazie a tutti